Versa il tuo Averna e scopri dietro la sua etichetta orologi firmati Ferrari, coordinati casa, favolose Rover. Il gusto pieno della vita. Chi mi diverte, chi dà allegria e chi mi fa cantare. Chi è vera festa quando balle un rock, chi mi piace dal pazzi. Fanta, Fanta, amica Fanta, e ogni giorno è un giorno ok. Fanta, Fanta, amica Fanta, c'è che il gusto se c'è lei. Amica Fanta. Fanta, amica Fanta. Fanta. 1003 è la superficie dei posti a sedere più ampia della categoria. Sarà anche una bella notizia, per me no. Non compratela. Getta Volkswagen, non a tutti piace. Lo sai che oggi di ogni giorno puoi fare un ricco giorno, ricche frolle pavesi. È tornata la vera bontà pasticcera. La leggera nevicata dello zucchero a velo. La raffinata fragranza delle mandorle. Una pioggia di gocce di cioccolato fondente. E la crema, golosa di zabaione, a far più ricche le ricche frolle. Fai d'ogni giorno un ricco giorno. Ricche frolle pavesi. È tornata la vera bontà pasticcera. Può accadere durante le attività quotidiane di essere in articolazioni, da dolori muscolari al collo, alla schiena, dolori alle braccia o alle gambe, una sensazione dolorosa di indolenzimento dopo un'attività che ha impegnato i muscoli. In questi casi è consigliabile un massaggio con balsamo Sif Camina. Balsamo Sif Camina sviluppa calore, riattiva la circolazione, combatte il dolore, ridà efficienza ai muscoli e alle articolazioni. Balsamo Sif Camina. Il calore che riattiva. Leggere attentamente le avvertenze. Sterling Europea Anche per te. Sì, lo so, perdo i capelli. Che cosa ci posso fare? Ecco che cosa bisogna fare. Primo, ridurre l'eccesso di sebo che soffoca la radice del capello. Ed è quello che fa il trattamento anticaduta del cos. Secondo, stimolare la radice e nutrire il capello. Ed è quello che fa il trattamento anticaduta del cos. Cosa fare per i miei capelli? Adesso lo so. Non lasciate che i vostri capelli cadano. Trattamento anticaduta del cos. Tre fiale la settimana per tre mesi. Dalle colline di Conegliano Veneto, dal vitigno che gli dà il nome, nasce il prosecco Carpenem Malvolti. Da più di cent'anni, la Carpenem Malvolti diffonde una tradizione antica e sapiente, con uno spumante esclusivo, festoso, unico. Carpenem Malvolti, la civiltà del prosecco. Entrate nelle pagine gialle. Così anche voi conquisterete il grande pubblico. Come? Evidenziando il vostro nome e la vostra attività. Con 20 milioni di copie, le pagine gialle vi portano in tutte le case, negozi, uffici. E la pubblicità sulle pagine gialle funziona. In tutto il mondo, milioni di persone hanno raggiunto il successo nella loro attività, grazie alle pagine gialle. Pagine gialle. Un grande volume d'affari. Fra tanti uguali, qualcuno ha deciso di non esserlo. That's 69, the Scotch Whiskey. Tu? Cos'hai deciso? Grappa Iulia V, invita a Faenza, per il Palio del Niballo. Da noi si beve Iulia. Grappa Iulia, genuina per tradizione. Si chiama? Miguel Alvarez.